Buonasera, ben ritrovati sui divani rossi di Dopocena, cari telespettatori come sempre ci ritroviamo per appuntamenti che parlano della persona e di tutto quello che avviene intorno a noi e che ci riguarda. Vi ricordo come sempre che potete riguardare le puntate che avete già visto di Dopocena seguendole o sulla pagina Facebook oppure naturalmente sul nostro sito di Fanotv dove trovate i riferimenti per Dopocena e in più c'è anche la nostra mail dopocena.it per entrare in comunicazione o chiederci qualsiasi cosa voi vogliate, è un rapporto, un interscambio di nozioni, di informazioni, di messaggi. Bene, un'altra puntata dove focalizziamo un problema come abbiamo già fatto altre volte che riguarda appunto la persona che vede la persona al centro di questa problematica. È una problematica un po' tutta al femminile diciamo, è una problematica che al 99% riguarda le donne e che viene un po' più fuori, si slatentizza un po' di più con l'approssimarsi della bella stagione che naturalmente implica il fatto che qualche centimetro di pelle si mostri. Allora, nell'immagine larga introduciamo subito Cecilia Tonucci, la titolare di Dalia, farma estetica. È ben trovato. È ben trovato, perché noi siamo venuti da te ma questa volta sei venuta tu da noi nei divani rossi. Allora, ho introdotto un po' il problema, no? Cellulite, quindi è un problema solo al femminile che attanaglia l'emisfero femminile. Sì, allora io direi innanzitutto che la bella stagione è alle porte, quindi mi son detta perché non giochiamo d'anticipo e quando dobbiamo iniziare? Adesso, da subito. Primo perché la cellulite, tutte le donne lo sanno che cos'è, perché basta che ci guardiamo allo specchio, la cellulite colpisce il 99,9% delle donne. Detto questo, la cosa che mi ha fatto riflettere è stata, ma esattamente lo sappiamo che cos'è la cellulite da un punto di vista proprio interno? Ecco perché ho deciso di fare comunque questa puntata, dopo lo vedremo, questa che è bellissima. Nemica numero uno delle donne, la cellulite colpisce fianchi, addome, cosce, glutei, praticamente tutta la zona è colpita. È una patologia vera e propria, tra l'altro multifattoriale, perché dipende da più fattori. Gli elementi che entrano in gioco sono sicuramente genetici, ormonali, perché anche gli ormoni sono fondamentali, alimentari, l'alimentazione gioca un ruolo importante e anche abitudinali. Detto questo, mi sento comunque di dire che probabilmente non la possiamo debellare nella maniera assoluta, nella totalità. Quello che però possiamo fare è intervenendo in anticipo e su vari fronti possiamo arginare il danno e da un punto di vista estetico ottenere dei risultati più che soddisfacenti. Quindi direi già che siamo a buon punto. A buon punto, anche perché come è risaputo la cellulite non si debella totalmente, però si può arginare, tamponare, perlomeno frenare il processo o ridurlo nella sua importanza. E' una vera e propria patologia che riguarda l'epidermite, il derma, che ormai è risaputo e riconosciuto essere un organo vero e proprio, che quindi ha degli equilibri al suo interno, che quando questi equilibri vengono alterati per un qualsivoglia motivo cambia anche la fisionomia e il quadro. Quindi, insomma, questo è un po' il sunto. E poi la cellulite la usate anche un po' come, insomma, ma tanto poi c'ha la cellulite, è vero? Sì, è vero. No, è vero, è vero. Quando avete da dire qualcosa, dite così, tanto c'ha la cellulite. La cosa però che dobbiamo dire è che cellulite è un termine che si utilizza anche in modo improprio, perché a dire la verità la cellulite è proprio appunto, mi hanno detto, una patologia che si chiama PEPS, ovvero pannicolopatia ed ematofibrosclerotica. Detto così in cut e terrore, ma così deve essere. Mamma mia, cosa c'ho? Però quello deve essere, perché parliamo di una patologia vera e propria, che coinvolge sia il fattore estetico, ma anche molto spesso il fattore psicologico. Ora, come dicevamo all'inizio, è chiaro che la cellulite, le donne lo sanno cos'è, perché se la vedono tutti i giorni. Ma realmente sappiamo che cosa succede all'interno della cellula? Lino, tu lo sai cosa succede? Non lo so, infatti io speravo che tu me lo dicessi. Ecco, prima di fare questo però dobbiamo ricordarci un attimo come è fatta la pelle, la cute. Quindi il primo strato abbiamo l'epidermide, nel secondo abbiamo il derma, sottostante al derma abbiamo l'ipoderma. Oh, questo è il tessuto che viene coinvolto dalla cellulite. Abbiamo un'immagine quanto mai... Esaustiva c'è qui. Oh, esatto. Poi ce n'è un'altra, se dalla regia possiamo mettere prima l'altra, mi sentono, vero? Sì, sì. Perfetto. Oh, anche questa è interessante. Allora, questa è la pelle normale, quindi come possiamo vedere queste cellulite gialle sono gli adipociti, ovvero le cellule dell'ipoderma, che contengono i grassi, che ci devono essere perché proteggono, ci proteggono dagli urti, regolano comunque tutto il discorso della termoregolazione e quant'altro. E quella sostanza grigetta, giallina, attorno alle cellule si chiama sostanza fondamentale. Quindi queste celluline galleggiano in questo gel e stanno lì bene, buone, buone. E questo è un tessuto sano, anche perché l'ipoderma è molto vascularizzato e molto innervato. Guarda la differenza sul discorso della cellulite. Guarda le cellule come si sono ingrandite, cicciotte, spingono uno contro l'altra, vanno a tendere il tessuto connettivo con queste fibre che formano il cosiddetto impalcatura e guarda come l'acute che noi vediamo, l'epidermide, fa il cosiddetto materasso. E lo strato esterno, chiaramente. Ora, una cosa che ci tengo a dire, perché è importantissima per controbattere la cellulite e contrastarla in modo efficace, è, faccio sempre l'esempio delle due radiotrasmittenti, se io e te ci mettiamo con due radiotrasmittenti e c'è la nebbia, non ce la facciamo a comunicare. La nebbia corrisponde alla nostra sostanza fondamentale, quindi io posso fare tutti i trattamenti che voglio, tutta l'attività fisica che voglio, posso fare, ma se io non vado a pulire la sostanza fondamentale, ovvero la nebbia, non serve a nulla, diciamoci la verità. Vanifico tutto il mio... Sì, esatto, cioè rimane qualcosa molto molto temporaneo, non vado ad agire realmente sul problema, ecco. Questa è bellina. L'altra la possiamo vedere? Questa è molto bella, anche perché spiega, insomma, proprio in maniera immediata, che cosa avviene. Cosa succede? Questo qui, anche questa, è un'altra foto che ho scelto, guarda come il tessuto connettivo si tende, è proprio teso, e tutte queste cellule sono un agglomerato di cellule, una di fianco all'altra, quindi il tessuto è proprio congestionato. ora mi sono chiesta, ho scelto questa foto per un motivo, come fa arrivare il sangue e quindi con il sangue tutte le sostanze nutritive in quel punto lì? Non arriva nulla. Fa fatica. Fa fatica, ecco. E questa è la cellulite, quindi è un grasso, parliamo di grasso degenerato. Ecco, quindi, insomma, tradotto in soldoni, questo è, le immagini possono più di mille parole, e Cecilia ci ha giustamente introdotto in un argomento che alle volte, insomma, voi lo vedete, lo toccate con mano, però quello che c'è sotto non lo sapete. C'è questo, insomma. Ci sono molti modi di approcciare il problema, ognuno si inventa, insomma, qualche approccio anche di tipo personale, magari pensando che facendo tanta palestra, facendo tante cose, in realtà è un meccanismo un po' più complesso da regolamentare, quindi, insomma, quello che tu proponi come tuo approccio non è un approccio di tipo meccanico, tu hai un'altra filosofia, un'altra idea su come affrontare questo problema. Sì, quindi la prima cosa che vado a fare, perché ho proprio ideato un protocollo, un programma, diciamo così, perché poi lo vivo su di me da sempre, la prima cosa da fare è cercare di andare a pulire questa nebbia, questa nebbia che dicevamo prima, no? Perché le cellule, se c'è nebbia, e quindi se o sono troppo vicine, oppure questa sostanza è intossicata, poi tra l'altro in questo momento particolare siamo intossicati, perché veniamo dall'inverno, pieni di tossine, dall'aria che respiriamo, scusate, l'alimentazione che non è quella più adeguata, diciamoci la verità, lo scarso movimento che facciamo, per cui abbiamo di che smaltire, e dobbiamo togliere queste tossine, e quindi devo fare, parliamo di drenaggio e depurazione, diciamo le metodiche possono essere tantissime, non è che ce n'è una in particolare, io però ho scelto questa perché mi sono innamorata dei sali, nel senso che uno può pensare, no? Alla cellulite e il sale, no, invece al Dalia utilizziamo il sale, e quindi lo utilizziamo come paradosso, e utilizziamo, adesso questo lo leggiamo insieme, i sali di Schussler. Allora, diciamo innanzitutto che cos'è, parliamo di terapia biochimica, e quindi la biochimica per comprenderla dovremmo prendere il tomo, l'esame che ho dato nel secondo anno, mi pare o nel primo, e non mi sembra il caso, no? Non è forse la Sidi più adatta. Quindi la dobbiamo prendere un po' come dogma, ecco, diamolo per... Oh, perfetto. Quindi metodica terapeutica, nella quale si afferma che queste 12 sostanze inorganiche, che sono presenti nell'organismo umano, in tutti gli esseri, tra l'altro, possono essere utilizzate per curare, e tra l'altro sorta nel 1873 da questo medico omeopata tedesco che si chiama appunto Schussler. Quando nell'organismo si instaurano dei disturbi, la causa, e questo è fondamentale da ricercare, è nello squilibrio tra ferro, calcio, magnesio, sodio, potassio, silicio, perché sono elementi base dell'organismo umano e la quantità e la produzione di questi elementi minerali decidono lo stato di equilibrio a partire dalle cellule. Allora, nel nostro caso, visto che abbiamo detto che la cellula viene comunque alterata, poi vediamo anche la differenza tra adiposità localizzata e cellulite, quindi questo tipo di terapia biochimica è interessante perché arriva direttamente nella cellula, arriva lì dove deve arrivare. E a questo proposito Schussler scriveva interagendo la perdita dei sali si guarisce la cellula e attraverso di essa l'organismo umano, appunto, attraverso di essa l'organismo umano, dunque nei sali inorganici sta il segreto della salute dell'uomo. Ora, mi sento di dire innanzitutto che non è una terapia da un punto di vista quantitativo, quindi non è che noi andiamo a prendere il sale perché manca un'integrazione e andiamo a sovraccaricare i reni, andiamo a sovraccaricare il fegato, no, è una terapia biochimica che si avvale di un'informazione, cioè i sali, che ne sono 12, sono diluiti e dinamizzati. Ecco, questo è importante da chiarire perché si possono associare a diversi farmaci, a medicina allopatica, per cui se uno prende farmaci antipertensivi, anticoncezionali e quant'altro, ecco, non danno nessun tipo di problema. Si possono utilizzare con l'omeopatia, ma sono estremamente efficaci, anche perché la prima cosa fondamentale, secondo me, oggi è non nuocere. Quindi, direi che... E quindi non è un'assunzione di sale così a casaccio. Ecco, è un cloruro di sodio, vado in casa, ho cellulito, letto, l'ho visto stamattina, no. Quindi non prendete cucchiaiati di sale da cucina che non serve a dire... No, quella è dell'eterio, esatto. E quella è dell'eterio. Famare, anzi, forse, andrebbe, non dico quasi eliminato dalla nostra dieta, ma quasi, appunto. Invece esiste proprio una preparazione che nelle giuste quantità, nelle giuste diluizioni, ti permette di, concedimi il termine, e correggimi se ne uso uno scorretto, scatenare questa reazione, reazione positiva. Tra l'altro, in Germania, una cosa che non sapevo, cioè noi abbiamo a casa il paracetamolo, l'ibuprofene, in Germania, loro hanno tutti i 12 sali di Schuster e li utilizzano in base alla patologia o al disturbo che hanno, sia in acuto che in cronico. Quindi direi che la prima cosa da fare è questa. Poi, appunto, non ne sono facili da assumere. Cioè, sono facili l'assunzione perché si prendono tranquillamente per bocca o si sciolgono in un bicchier d'acqua, però vanno un attimo capiti. Per cui, se qualcuno ha un particolare interesse, non fa altro che venire a Dahlia a farmestetica, lì ne possiamo parlare. Poi li abbiamo tutti, per cui, sì, assolutamente. Perché una cosa che contraddistingue il tuo centro è il counseling, cioè il rapporto con la persona. Tu ami molto anche, insomma, entrare un po' nell'ambito, insomma, con le dovute limitazioni, però anche nell'ambito interpersonale della tua cliente, della tua persona che viene da te. Perché, giustamente, vuoi capire, hai un approccio un po' a tutto tondo. Questo un po' contraddistingue il tuo centro. Sì, anche perché non è che le cellulite non sono tutte uguali e l'adipe non è la cellulite. E quindi, la prima cosa che dobbiamo fare è cercare di capire a che stadio ha la persona, comunque la cliente. E quindi abbiamo il secondo, il terzo, il quarto, il quarto stadio. Il quarto stadio è uno stadio di non ritorno a quel punto, solo il medico potrà intervenire. Per il primo, che è l'edematoso, che a occhio nudo non si vede, riusciamo ad intervenire, c'è proprio un edema, un gonfiore. Nel secondo abbiamo la fibrotica, che abbiamo visto, e poi diventa nodulare. Al di là di questo, sì, è importante, perché ci sono alcune manualità o alcuni prodotti che vanno bene per il primo stadio e altri che vanno bene per il secondo. L'altra cosa che mi sembra un po' assurda è fare una manualità. Ma no, perché? Se io ne conosco quattro, ne conosco cinque, e ognuna ha una caratteristica che può aiutare, una magari mi aiuta il sistema linfatico, un'altra aiuta il sistema circolatorio, un'altra aiuta il tessuto connettivo. Perché io devo fare alla cliente una tipologia di manualità? No, io le conosco tutte e quattro, tre, quelle che sono cinque, sei, e le vado a mixare. Quindi una volta faccio una manualità, la volta dopo vado ad agire su un altro piano. Questo mi sembra un approccio, diciamo, con il sale. Parlando appunto di sale, ecco, con il sale in zucca. Tra l'altro poi anche nella cucina i sali sono entrati a gamba tesa, vediamo sali neri, sali dell'Himalaya, sala rosa, il sale è diventato di grande moda, ma come avete sentito dalle parole di Cecilia, insomma, già nel 1800 c'era qualcuno che ne studiava un utilizzo meno alimentare, meno così di moda, meno modaiolo, ma più scientifico e più, insomma, più mirato alla salute della persona. Facciamo anche un distinguo, un po' anche così, giocando sulle terminologie divertente. Oh, mi piace. Perché spesso si può confondere la ciccia con la cellulite, la ciccia, insomma, in grasso, l'adipe, diciamola così scherzosamente. Bisogna individuarlo e distinguerlo. Assolutamente sì. Allora, per ciccia, che prima tra l'altro Lino mi ha detto che ho messo su qualche chilo, lo possiamo dire, ed è vero. Ma non è vero. Non è simpatica questa cosa, si può dire. Gli autoflagello da solo. Ma nel caso di prima, tu mi hai detto ciccia, ed è vero. Quei due o tre chili che durante l'inverno comunque si accumulano. E quindi parliamo di tessuto adiposo, e quindi di accumulo di grasso in alcune zone, per cui addome, pancia, fianchi, però attenzione Lino, sia nelle donne che negli uomini. Quindi, capita anche ai maschietti questa cosa. Un sortocollo. Ecco, dove non abbiamo però un'alterazione della cellula o del microcircolo. Cioè, parliamo di tessuto sano. Allora, uno potrebbe dire siccome è tessuto sano, sto così. Eh no? Perché se tu non fai attenzione, il tessuto da sano degenera. Prima cosa. Invece, con la cellulite abbiamo proprio un'alterazione di tutta la cellula, di tutti quelli che sono i meccanismi del metabolismo cellulare. Si forma, abbiamo visto, ci sono nuove formazioni di collagene, il tessuto diventa comunque più duro, il microcircolo ne risente, l'acido ialuronico richiama comunque più acqua, per cui è una distinzione fondamentale. È vero anche che nella maggior parte dei casi la adiposità localizzata poi è presente anche nella adiposità localizzata è presente anche la cellulite. Ecco, diciamo che si sovrappongono molto spesso. Ecco, quindi, ritornando, facendo un passo indietro, quindi, una volta che tu hai individuato la problematica e hai distinto tra possibilità di andare in palestra e invece un approccio un po' più endogeno alla cosa, proponi questo tuo vero metodo. Quindi, che cosa fare una volta che si è capito qual è il problema? Perfetto, quindi, la prima abbiamo detto depurazione e drenaggio fondamentali, la seconda cosa facciamo la stessa identica cosa del drenaggio e della depurazione anziché da un punto di vista endogeno ma esterno quindi eudermico lavorando, io lo adoro tra l'altro con questo minerale che è proprio il sale dell'Himalaya questo sale ormai ne abbiamo parlato anche l'altra volta tant'è che è molto richiesto da me al Dalia interessantissimo è un altro prodotto che adoro chiamato anche oro bianco ma per due motivi perché è molto ricco di oligoelementi per cui andiamo a ripristinare comunque la mancanza di questi sali nuovamente anche se non sono sali come gli altri sulla pelle ma l'altra cosa che fa questo sale e non li fanno tutti i sali è proprio l'osmosi quindi se io applico questo sale con un cartene facendo stare la cliente chiaramente adagiata sul lettino devo starci un po' perché altrimenti l'osmosi non viene attivata se però sto lì un po' l'osmosi si attiva tiro via le tossine insieme all'acqua e quindi vado a fare quel discorso di prima da un punto di vista comunque eodermico della nebbia quindi tolgo la nebbia dall'interno tolgo la nebbia dall'esterno quindi l'approccio che tu proponi con questa intuizione questo studio di questo omeopata è di doppio tipo cioè utilizzi il sale sia esternamente che anche attraverso l'assunzione di quel preparato che mi hai detto quindi è una doppia via puoi fare insomma sia assolutamente sì perché poi funzionano sempre le sinergie cioè è quello non è che possiamo fare non ha senso fare una cosa sola tra l'altro al Dalia riusciamo a fare contemporaneamente più cose e quindi perché no perché no poi dopo il sale che lo faccio sempre a quel punto come dicevo prima vado a proporre o dei peloi di minerali che cosa sono i peloi di minerali ecco mi stavo domandando mentre tu lo dicevi i peloi di cosa sono i peloi di si chiamano fanghi ecco però i peloi di mi piaceva di più di fatto però parliamo di fango dove anche qua utilizzo il sale dell'Himalaya comunque dove vado ad aggiungere degli oli essenziali in base anche lì alla problematica e questo tipo di trattamento ha due valenze la valenza eudermica dove andiamo a ripristinare comunque i sali ma anche una valenza termica perché induce un aumento di temperatura e quindi anche questi di nuovo mi tirano via c'è una stimolazione termica esatto e mi tirano via sempre le tossine dopodiché andiamo a fare la manualità perché noi non utilizziamo macchine perché secondo me la mano sente la mano arriva tocca il tessuto e poi è comunque più piacevole sentirsi una mano addosso piuttosto che una macchina questo è il mio parere e utilizziamo il linfodrenaggio quando è necessario la manualità con il massaggio estetico e il massaggio connettivale una cosa la dico è il fatto che nel massaggio estetico il prodotto che utilizzo nella maggior parte dei casi è un prodotto che contiene adesso anche qua devo essere un po' tecnica l'alipasi comunque di fatto andiamo a lavorare sul volume delle cellule e quindi insomma l'oro bianco ha una sua funzione ben specifica quello che tu fai quindi quello che si fa nel centro d'alia farma estetica è un approccio a tutto tonno insomma ti piace questo concetto lo ritroviamo anche in altre tue metodiche che non è solo mirata alla cellulite cioè la persona per te va considerata nell'insieme nell'insieme certo assolutamente sì ma anche ma è giusto che sia così non possiamo prescindere siamo siamo un tutt'uno e quindi non è che sia un problema di cellulite e poi anche anche il discorso dello stress che ultimamente leggevo un articolo interessante sentiamo siamo tutti stressati no tutti io con chi parlo stressato ma è vero ma anche lo stress quanto incide ma è incredibile sulla cellulite ma incide tanto sull'adipe localizzato aumenta comunque aumentano anche lì si sbilanciano degli ormoni quindi anche lì ci sarebbe adesso un'altra un'altra torna a fare no un altro argomento sì sui fiori di bacche interessantissimo che lavorano sul piano emozionale perché anche quello è importante perché siamo veramente come se fossimo un bilancino no e quindi siamo un po' in bilico oggi come oggi è maggior ragione siamo in bilico forse più di di ieri cioè più di quando ero piccina io abbiamo dei ritmi sicuramente diversi però ecco è importante capire l'approccio proprio filosofico che sta alla base dell'idea di Dalia e dunque quella di Cecilia che vuole approcciare metodiche conosciute e che comunque già standardizzate a problematiche attuali attualissime con un approccio con una visione particolare quindi anche in questo caso con la cellulite ha la sua visione la sua la sua idea di come di come ridurre l'impatto in termini estetici ma anche in termini emozionali perché poi quando una persona sta bene con se stessa in tutti i sensi anche il suo equilibrio psicofisico influisce perché la mente può tanto mamma mia ma la teoria io la chiamo la teoria dei vasi comunicanti cioè se tu stai bene con te stesso inevitabilmente stai bene al lavoro stai bene con il compagno il marito con i figli con gli amici perché tanto il primo sei tu è proprio la teoria quindi non è possibile dire anche quelle donne che dicono ma io sto bene così non lo so forse sì forse sì forse sì non lo so parliamone parliamone però perché no volessi bene è importante volessi bene è importante e appunto con l'approssimarsi della stagione estiva questa è una tematica che ritorna anche proprio nei momenti di vita quotidiana la cellulite ci entra sempre soprattutto nei vostri discorsi quindi il messaggio è facciamo l'approccio che decidiamo di fare ma facciamolo con consapevolezza e soprattutto rivolgiamoci a persone che hanno idee ben chiare e progettualità che abbiano un fondamento anche scientifico un sotto un substrato ecco no ci tengo a dirlo questo non è che la terapia biochimica l'ho inventata io magari ecco però no quindi mi avvalgo comunque di un medico e di una terapia che ha cent'anni tra l'altro in questo approccio da un punto di vista endogeno no perché magari uno dice ah si è inventata le cose no non me le sono inventate ecco tutto scritto tutto documentato soprattutto in un ambiente che anche insomma quando vi accoglie vi accoglie bene io sono stato da voi insomma devo dire che sia tu che le tue collaboratrici siete persone splendide quindi mettete molto molto a vostro agio insomma fate di tutto per far sentire insomma in un ambiente rilassato e come dire a proprio a propria misura di persona poi dopo ognuno la pensa come vuole però insomma ognuno propone il suo quindi cellulite centro estetico centro farmestetica d'alia è approcciato con questo con questo modo naturalmente non abbiamo parlato di tempi però insomma i tempi sono ecco anche questa è una cosa che va detta cioè non è che possiamo standardizzare quindi otto otto per te otto per lino otto per me otto per il camera cioè non è possibile no non è così no e quindi dipende dalla persona che stile di vita che cosa mangia se prende dei farmaci come vive come pensa anche quello c'entra e quindi è una cosa che riusciamo a stabilire quando ci si incontra e poi è sempre io penso che sia sempre un divenire cioè è vero che dobbiamo stabilire degli obiettivi ma non è un obiettivo definitivo ma è un obiettivo che va poi rispostato per magari un altro tipo di per un miglioramento magari in più per non si può dire cioè no mi rifiuto di dirlo di dire non diamo tempi raggiungiamo degli obiettivi una volta che siamo a goal che siamo obiettivo abbiamo raggiunto il nostro scopo non standardizziamo l'importante è approcciarla nel modo giusto insomma bene quindi da Cecilia Tonucci in Dalia sì ma mi puoi chiamare anche Dalia perché ormai ormai ti chiamano tutti Dalia mi chiamano Dalia ormai cellulite con insomma i sali esatto mi piace cellulite con il sale però prima scorrevano le immagini prima di salutarci vi vogliamo dare anche una una chicca una notizia simpatica che non c'entra niente con la cellulite però vediamo scorrere le immagini di una clip molto molto carina molto bella che ci riporta un po' indietro negli anni perché qui insomma vediamo il noto furgoncino della Volkswagen insomma una ragazza con gonne lunghe un gran freddo un gran freddo che adesso non si vede però l'abbiamo sentito quando abbiamo girato vintage inside che cos'è? allora vintage inside è il primo contest perché mi piacerebbe poi pensare a un secondo e via via un terzo chissà che primo contest vintage quindi tematica anni 70 presso Dalia farmestetica però spero appunto il prossimo anno di farlo in un posto più grande che coinvolge quattro attività imprenditoriali tre di Fano e una di Pesaro quindi chiaramente c'è Dalia farmestetica a maniera foto le ragazze del My Loft e il make up artist la make up artist Silvia Pigrucci che lei è di Pesaro è iniziato interessante l'idea è venuta a me più che altro perché gli anni 70 mi piacciono molto ho cercato di coinvolgere queste altre tre strutture quindi abbiamo il 6 marzo facciamo questa diciamo questa gara tra virgolette ma in modo giocoso per cui a disposizione di tutti coloro che vorranno essere le vere protagoniste degli anni 70 noi le aspettiamo dalle 17 in poi se riescono a prendere appuntamento è meglio però praticamente cosa succede? loro arrivano quando arrivano subito subito ricevono un cadeau ecco e quindi già quello è già questo ecco anche perché uno può dire che cosa ci dai e lo diciamo allora il cadeau è trucco idun quindi idun è un trucco minerale svedese io ci tengo particolarmente perché essendo minerale non ha nanoparticelle ottimo come tra l'altro è estremamente performante come prodotto il packaging ci tengo anche a dirlo disegnato da Patrizia Patrizia Gucci infatti questo è proprio un'immagine che si ispira a via idun e sono bellissime sembrano dei quadri tra l'altro vabbè poi My Loft darà anche una maglietta e comunque ci saranno dei gadget ecco poi dopo ci si potrà truccare con Silvia anni 70 per poi passare velocemente sotto le mani di due stylist appunto Anita e Susanna che faranno e sceglieranno insieme alla cliente un outfit dopodiché sempre altrettanto velocemente perché deve essere una cosa abbastanza dinamica si passa ad un set fotografico anni 70 e lì ci saranno Giacomo e Paolo che immortaleranno la protagonista anni 70 con mi pare di aver capito con delle polaroid polaroid quindi anche questo è carina come cosa infatti mi è piaciuta dopodiché queste foto verranno prese perché era difficile poi stabilire una giuria potevo chiamare te forse vabbè non lo so però io ho vissuti gli anni 70 quindi qualcosa mi ricordo facciamo una cosa un po' più semplice mettiamo tutte ste foto all'interno di una scatola che abbiamo nominato vintage anche questa ecco e estraiamo quattro persone queste quattro persone saranno le vincitrici e vinceranno un trattamento al Dalia farmestetica exuvians agli acidi della frutta una borsa al my loft uno shooting fotografico da maniera foto e un make up da sera appunto da Silvio pigrucci quindi direi che sono tutti gli ingredienti per fare una bella giornata e poi è particolare abbiamo deciso di girare questo video e l'abbiamo messo anche sul web per non fare se di solito le locandine ma è stato carino come l'abbiamo girato l'abbiamo girato giù in una zona di Fano un po' dimenticata dall'amministrazione lo possiamo dire questo non lo so vabbè comunque in questo caso ci è rimasto utile questo posto perché bello sembra veramente mi sa che era presto qui nella Marellà ma questo era dopo pranzo ma lì lì era caldo era una domenica poi a un certo punto è cambiata completamente l'aria un freddo un vento vista così sembra una spiaggia californiana è bellissimo in realtà siamo siamo a Fano vedete quanti scorci belli è alla città di Fano poi il video devo ringraziare anche Eugenio Cinti che ci ha dato una mano a registrare il video è stato non l'avevo mai partecipato è stato una bella esperienza sì a registrare una cosa così che è corta non so quante volte l'abbiamo rifatto proprio la maniglia i particolari quindi è stato interessante perché ho imparato una cosa che non conoscevo quindi questo avviene il 6 questo avviene il 6 marzo presso Dalia dalle 17 alle 20 e 30 più o meno quindi vi aspettiamo ricordate lo fate il cerchietto rosso segnatevelo 17-20 Dalia per una full immersion negli anni 70 poi tornano anche di moda adesso quest'anno assolutamente sì la moda ripropone tutti questi abiti comunque molto fiore va molto vedo che tu hai già i jeans a zampa di elefante bravo infatti li ho messi a posta quindi c'è un richiamo proprio li ho messi a posta chissà se noterà i miei jeans anche io li avevo se li metto faccio meno bella figura di leso però io ce li ho stretti nel 2016 quello slim fa anche quello va bene quindi questo tuffo del passato 2016 anni 70 da Dalia il 6 di marzo e poi insomma ritornando a bomba sull'argomento della puntata di Dopocena l'approccio suo al discorso della cellulite che qui insomma rientrerà prepotentemente nei vostri discorsi a brevissimo insomma bene questa puntata di Dopocena termina qui abbiamo affrontato una tematica quanto mai sempre attuale e anche un fatto così un piccolo lancio in avanti per una giornata un po' particolare grazie Cecilia Conucci grazie Lino grazie a te sempre un piacere incontrarti e insomma sentire insomma dalla tua voce l'entusiasmo che hai nelle tue proposte nelle tue cose grazie e arrivederci allora spero di riaverti ospite qui bene grazie a tutti voi per essere stati in nostra compagnia arrivederci alle prossime ciao grazie a tutti